Il Comune di Mondolfo è sempre molto attento agli aspetti di legalità, di civiltà e di senso comune aderito a questa proposta di legge. Sì, abbiamo aderito a questa proposta di legge promossa ad ANCI di introduzione della materia di educazione della cittadinanza nelle scuole, in tutte le scuole, di ogni ordine e grado e la riteniamo un'iniziativa davvero importante che è stata sostenuta da tanti sindaci d'Italia e adesso c'è anche il Comune di Mondolfo che contribuirà con questa raccolta firme. Ecco, spesso vediamo brutti episodi, spesso i ragazzi giovani, i protagonisti in negativo, quindi magari educare dal basso potrebbe aiutare ad arginare questi brutti fenomeni. Sì, pensiamo che partire dai banchi di scuola sia un passo importante per far crescere cittadini che sono giovani, che sono rispettosi delle istituzioni e per rafforzare in loro il senso civico, il senso di appartenenza alla comunità. Quindi lo riteniamo davvero un'iniziativa lodevole che ogni Comune deve sostenere. Ecco, proprio a questo riguardo sarebbe molto bello se un po' tutti i Comuni lo adottassero. Sì, noi diciamo l'appello che faccio a tutti i sindaci anche della nostra provincia è di sostenere questa iniziativa promossa ad ANCI. L'obiettivo, come previsto dalla legge, è quello delle 50.000 firme. Ci sono già diversi sindaci d'Italia che hanno iniziato a raccogliere le firme. È iniziato adesso anche il Comune di Mondolfo e ci sarà tempo fino al 5 gennaio. Come si fa a firmare per chi vuole venire? Venire agli uffici anagrafe di Mondolfo e di Marotta. Possono venire qui anche cittadini che non sono residenti proprio nel Comune di Mondolfo e portare un documento di riconoscimento. Come si fa a firmare per chi vuole venire? Come si fa a firmare per chi vuole venire? Grazie a tutti.